Novo appuntamento con Tra le righe incontro con l'autore questa settimana. Vi parlo di come sia possibile brillare di felicità. Lo facciamo grazie a un libro edito da Tau Editrice, scritto da Teresa Di Bari, docente e pedagogista, che è venuta a trovarci qui nei nostri studi. Ciao Teresa, benvenuta. Grazie Paola, buonasera. Brillare di felicità, la prefazione di Mimmo Armiento. A questo proposito non possiamo non ricordare che tu insieme a tuo marito Mimmo siete parte attiva dell'associazione di Mimmo Armiento, ingannevole come l'amore, che più volte abbiamo avuto modo di ospitare. Allora, manuale di distruzione dell'ovvietà amorosa, questo è il sottotitolo del libro che tu hai scritto. Io partirei proprio da una domanda, da una mia curiosità personale. Teresa, che cosa significa? Che cos'è l'ovvietà amorosa? Allora, ovvio non è banale, non significa banale. Ovvietà è quando si dà per scontato, si priva del suo valore, ogni cosa e soprattutto l'altra persona, nel caso della relazione amorosa. L'altro è privato del suo valore, della sua, quella che è anche la sua intelligenza, la sua creatività, la sua voglia di fare. Si dà tutto per scontato, perché ormai viene posto nello sfondo, nella routine, tutto cade in una situazione di ormai di... Ma sì, ormai ci conosciamo, ormai è ovvio, ormai cosa te lo dico a fare, perché comunicartelo? Perché tanto è un implicito, diventa... si passa tutto nella... viene derubricato nella categoria dell'ovvio. Questo, nella relazione, spegne la vitalità, spegne le energie, spegne la creatività, spegne anche l'impegno. Non c'è più un impegno fatto per scelta, ma quasi per dovere, si va avanti per inerzia. L'amore ormai non tende più a fiorire nella dimensione dell'ovvietà, ma si spegne, si affievolisce. Quando tutto è ovvio, tutto diventa monotono, si è fagocitati proprio dalla routine. Ecco perché tu punti l'attenzione anche sull'importanza, come dicevi prima, dei gesti, del sorriso, della carezza, anche della parola, anche del complimento, ecco, della parola magari che uno non si aspetta, è una grigia domenica di giovedì, quando magari si corre per andare a scuola per accompagnare i bambini. Quindi l'importanza dei gesti. Sì, i gesti non vanno dati per scontati, per ovvi, vanno proprio manifestati da quella che può essere una semplice carezza, ma ancora di più un abbraccio. Gli abbracci oggi sono un forte nutrimento, non solo del corpo, ma soprattutto dell'affettività, dell'anima. È un sentire l'altro presente in tutte le sue dimensioni. E poi dai gesti, ovviamente, le parole. Il ti voglio bene, che molto spesso viene dato per scontato nella relazione amorosa, ma anche, a volte, anche con gli amici, questa cosa molto bella tra amici, comunicarselo non con quella, tra ragazzi, tra adolescenti è molto facile dire ti voglio bene, ti amo, però a volte lo si dice con quella ovvietà, con quella scontatezza, quasi la parola perde del suo pregnante significato. Ritornare a dirlo proprio con una profondità, con un'intensità di sentimento che dice tutto. Io vorrei un attimo uscire, come dire, fuori dal seminato, perché mi ha colpito il fatto che tu abbia dedicato questo libro a tuo padre Salvatore e a tua madre Maria, che ti hanno donato la vita su questa terra. Un grande grazie. Ti hanno donato la vita su questa terra, ma sicuramente, è una cosa che penso io, anche quello che tu scrivi in questo libro, anche quello che vivi quotidianamente con tuo marito, un po' lo devi anche a loro, a come loro hanno vissuto la loro relazione di marito e moglie. È così? Sì, a partire ovviamente dalla mia esperienza di figlia, poi di donna, di moglie, di mamma, ma su questo ovviamente si costruisce. Poi c'è la fase del distaccamento, ovviamente, della desatellizzazione, tutto un processo in cui si riscoprono, si valorizzano le forme di amore ricevute, ma se ne scoprono di altre e anche in una dimensione totalmente differente che la propria. Poi ogni coppia ha la sua identità, quindi si costruisce una nuova identità amorosa di coppia. Ciascuna coppia ha la sua unicità, infatti a un certo punto io dico, riscopriamo le nostre preziosità, cioè ogni coppia riscopra le proprie preziosità, le proprie unicità, ed è bello anche raccontarsele, perché a volte si dimenticano nel tempo, negli anni, soprattutto se ci sono anni di matrimonio un po' accumulati. Si tende dunque a far questo. Il libro si intitola Brillare di felicità, bella anche la copertina, questo sfondo color cielo, un cielo notturno, però queste due stelle principali, poi altre stelle che vanno ecco a illuminare questo cielo. È possibile oggi brillare di felicità, Teresa? Sì, partendo da quello che si è, ecco, senza nulla pretendere, se, come dire, da ciò che ho, partire dal mio cuore, partire dalla mia, dalla mia persona, da quello che sono e da lì, nonostante tutto, nonostante ogni cosa, la felicità è una scelta, noi diciamo, ma è una scelta che va al di là della stessa scelta, prima della scelta stessa abbiamo una scoperta, la scoperta dell'altro, io dico l'altro con la A maiuscola, l'altro che ti pone ad intuire, sì, io sono stata generata da mia mamma e da mio papà e a loro devo dire grazie, ma ancora prima intuisco che da un essere finito, sì, può nascere un altro essere finito, ma all'origine, quell'intuizione che è all'origine, io sono originata da un creatore, da un'intuizione di bene che io porto dentro, ed è quell'intuizione di bene che dice bene di me, nella libertà mi vuole bene, e quando si scopre di essere voluti bene nella libertà e liberamente da un altro che la A maiuscola si inizia a brillare di felicità, ma questa scoperta è un'intuizione che tutti possono compiere, non è un'intuizione relativa soltanto a chi è credente, è un'intuizione alla portata veramente di ogni essere umano, perché è intrinseco in ogni essere umano, è nel nostro DNA comprendere che non ci siamo fatti da soli. È così. Quanto l'esperienza all'interno di Ingannevole come l'amore ti ha in un certo senso ecco anche aiutato a mettere nero su bianco, a raccontarti in questo libro, perché in questo libro c'è anche molto di te, tra le righe però c'è molto di te. È un percorso, è un percorso di crescita, di formazione, e senz'altro questo percorso all'interno dell'associazione mi ha aiutata ulteriormente a crescere sotto tutti i miei aspetti, sotto tutte le dimensioni. Sì, relazionarsi non soltanto con chi è in cammino è davvero una ricchezza, ed è un'ulteriore opportunità di crescita. Camminare in un'unica direzione, verso il mirionamento di sé e degli altri, non può che essere un meraviglioso benessere, per l'anima, per il corpo, per la società. Ci sono davvero tanti spunti di riflessione in questo libro. Mi ha colpito, però ecco in particolare, ho anche messo un post-it per indicarlo, quando parli del sorriso, la forza del sorriso, perché senza sorriso un volto è vuoto, è nudo. Un volto senza sorriso non genera intimità, perché è spento ed appare senza significato e senza valore. E allora regaliamoci più sorrisi. La paga più grande per un uomo è rientrare a casa e sentirsi accolto dal sorriso della sua donna. E allora è un uomo che si sente ricco e felice, in grado di scalare ogni vetta anche in condizioni estreme. Quindi la forza di un sorriso. Mi ricordo anche un po' Madre Teresa di Calcutta, no? Quello che scrisse lei. Pensiamo che a volte occorrono grandi, grandissimi gesti, chissà cosa. Ecco, basta un sorriso, un sorriso per rigenerare energie, creare nuova forza, nuova vitalità, proprio nell'altro. In questo caso nel marito, ma può essere anche in un fidanzato, certo si è ancora green in quella situazione, però il sorriso anche in un passante genera vitalità. Cioè non è soltanto nella relazione amorosa, in ogni ambito, anche sul posto di lavoro, genera nuova luce negli occhi dell'altro che lo riceve. Dice, ho ricevuto un sorriso. Nasce lo stupore, nasce, ecco, il senso di gratitudine. Io dico che l'ovvietà ha spento proprio la vitalità, ma ha eliminato l'essenza dell'umanità, che è un'essenza di gratitudine. Ecco, eliminare l'ovvietà e scoprire il dono e con esso la gratitudine, perché nella gratitudine c'è felicità. Io concluderei con questa tua frase. Grazie per essere stata con noi. Ricordo ai nostri amici telespettatori il libro di Teresa Di Bari, Brillare di felicità, manuale di distruzione dell'ovvietà amorosa, tau editrice, la prefazione è di Mimmo Armiento, che salutiamo perché sicuramente poi seguirà questa intervista, così come salutiamo tutta l'associazione ingannevole come l'amore. ringraziamo Teresa per essere stata con noi. Grazie ancora e grazie a voi tutti per averci seguito. Tra le righe torna come sempre la prossima settimana. Grazie a tutti per averci seguito.